Grazie a tutti. Sicuramente potevo fare di più, io mi prendo la mia responsabilità e niente, è andata così, ci dispiace tanto. Su quel cross, l'uscita, lì cosa è successo? No, sicuramente ho calcolato male dove cadeva la pala e si è trovato anche uno, uno di loro solo e ha fatto gol. Vicenza che era passato in vantaggio con Maritato, poi ha anche sofferto alla lunga, ha avuto un calo, è sembrato il Bassano avere più forza, più voglia. Sì, abbiamo subito soprattutto il secondo tempo, all'inizio i primi 20 minuti o anche di più forse, finché abbiamo subito noi il pareggio e lì abbiamo cominciato a giocare un po' di più. Abbiamo avuto anche delle opportunità di fare gol con un po' più di sfortuna perché anche loro hanno avuto delle ribattute, delle palle che sono andate in angolo. Ma purtroppo così il calcio, a volte quando non la butti dentro, te lo fanno loro. Quanto pesa questa sconfitta? Pesa nel modo giusto per correggere delle cose, per migliorare, ma non ci deve abbattere soprattutto mentalmente. Noi dobbiamo da domani, ci penserà il mister a rincominciare a lavorare e a migliorare un po' la squadra. Alla fine siete andati comunque sotto la curva sud? Sì, sicuramente, per salutarvi perché loro ci hanno tenuto tutta la partita, ci ha dispiassuto ovviamente perdere in cassa contro il Bassano un derby, ma è andata così purtroppo. Vicenza ha battuto dal Bassano in questa sfida ufficiale di Coppa Italia e piussare che era cominciata bene dopo 9 minuti, guizzo di testa e gol di meritato. Beh, sì, avevamo iniziato benissimo, comunque siamo andati in vantaggio presto, meno per tutto il primo tempo avevano rischiato poche niente, l'unica palla a gol loro è successa prima del nostro gol, quindi dopo siamo riusciti a gestirla. Secondo tempo poi invece non siamo riusciti a gestirla come il primo, comunque non accorcevamo più come facevamo nella prima parte di gara. Abbiamo pagato questo e poi dopo loro hanno trovato due gol. Carati alla distanza come mai? Ma comunque è caccia d'agosto, quindi penso che ci possa anche stare, drammi su questo non li farei perché comunque è ben iniziato da neanche un mese. Parliamo del gol, la rimessa laterale di Brighetti, lì il colpo di testa. Ne avevamo parlato, scusami, ne avevamo parlato già in settimana, io ho visto che ci avevo rimesso a lungo, ho detto beh prova, io due anni fa qualche volta ci sono arrivato vicino, prova magari stasera va bene, per fortuna è andata. Poi hai dovuto combattere, se dobbiamo dare dei voti tra virgolette, sicuramente tra i migliori del Vicenza? No, ma in generale penso che tutti più o meno abbiamo fatto una buona gara, poi sicuramente saremmo mancati sotto il profilo fisico però. Ripeto, il calcio d'agosto può starci, rimane rammarico di aver perso in casa un derby ecco. Con il Bassano che magari... Beh, sono tutte lì, ormai non c'è più da fare la distinzione da quale categoria si arriva, quindi per me il Bassano vale quanto la Cremonese. Poi siete andati sotto la curva a fine partita? Eh, dispiace un po' per i fischi però giustamente loro l'hanno vista magari diversamente da noi, poi sono tifosi e sicuramente non fa piacere perdere. Dispiace ripartire magari da quello ma faremo di tutto per riportarli dalla nostra parte. A Vicenza mancava qualche pedia importante ed è un Vicenza che deve ancora crescere? Beh, sicuramente sì, ripeto, non è anche un mese che siamo partiti e magari stasera mancava anche qualcuno. Però penso che anche chi ha giocato non abbia fatto male, quindi non penso che sia da sminuire anche il lavoro fatto da altri. È arrivato anche Cocco quindi... Beh, buon per noi, vuol dire che avremo più scelte davanti e può decidere al mister come giocarle, come sfruttarle.